Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano codei a tratti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilè in direzione Mare si segnalano due chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 43-400 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Val d'Arno. A causa di frane o smottamenti dovuti al maltempo sono chiuse la statale 2 Cassia a San Quirico d'Orcia, la statale 12 della Betone del Brennero a Borgo Ammozzano e la statale 62 della Cisa nel comune di Pontremoli e nel comune di Aulla. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!